Ma che fate? Ma che fate in quella piscina. Ma no, ma non è maia quella, quella è la signora come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Pompaccioni. E' la signora Pompaccioni. Brava, batti i piedi pure, vai, vai. Eccola. Galleggia, galleggia. Ma come faceva? Eeeh, brava. Ma l'ha visto i filmetti quando tu non lo so ne fai? No, non l'hai fatta ancora visto? E' un pezzo. Ma come, tu che ci favi al San Veno? Tivuronna, tivuronna, tivuronna alla vista. Eeeh, aiuto!